Ciao a tutti da Cristian T.G. del Salutore del blog, grandissima sorpresa, il grandissimo Marione che è una sorpresa per voi. Ciao ragazzi a tutti gli amici che stanno appunto sui blog, su internet, YouTube, MySpace, Facebook, Twitter pure, bravo. Forza Roma e grazie per seguirci e seguire il nostro amico. Perciò saliamo tutti gli amici della radio. Siamo tutti quanti, tutti gli amici della Roma, in generale della radio e di tutto quello. Siamo tutti quanti gli sportivi e un far play proprio. Un grande far play per tutti quanti, come no. Rudy Cassia salutiamo. Grande Rudy Cassia lo salutiamo, un saluto anche a Ripi, Jonathan e Lengua. Un saluto a tutti, ciao Rudy. Ciao, ciao, Cristian T.G. e grandissimo Marione. Ciao.